Detress Camper 500 QSK si vede già la perfezione assoluta della cellula davvero incredibile una carona destinata alla famiglia il matrimoniale fisso è alto il materasso è da primato provate a vedere anche all'interno non c'è uno sbavo, non c'è un'imperfezione la carona sembra costruita veramente ma veramente bene di net centrale che si può trasformare in un matrimoniale all'occorrenza la cucina è concepita da chi veramente di carona ne capisce perché ha tutto quello che serve tranne quello che non serve per questa stagione Detress ha deciso di rispondere con questo tipo di prodotto alle esigenze della famiglia media complimenti